Dopo tante polemiche e delusioni, il Moto Mondiale 2015 celebra il suo ultimo atto a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenziana. La lotta tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi per il titolo di campione del mondo si deciderà in 30 giri nella giornata di domenica. Due settimane in cui non sono bastate a placare i umori e soprattutto le polemiche seguite a quanto accaduto a Sepang in Malesia. Di Bricotora cercare di recuperare 7 punti per strappare il titolo mondiale al Pisarese che nonostante la TAS abbia rifiutato il suo ricorso non ha nessuna intenzione di mollare. Ed è forte anche l'ipotesi che in gara i piloti potrebbero far passare il pilota di Tavulia. Escludiamo da questo Marquez perché per il suo comportamento certamente non va nemmeno di essere citato. La lotta è tra questi due campioni che al di là delle polemiche possano chiudere un mondiale che è stato avvincente nonostante tutto.